Un saluto, come state? Ben ritrovati, vi invito a iscrivervi sul logo AL, lasciate un bel like e commentate, qualsiasi squadra voi ti fiate, parliamo di tutto il grande calcio, ma anche di casi clamorosi, ragazzi, ci dobbiamo tornare, dobbiamo tornare su Donnarumma, perché quando pensi, vabbè, adesso ha toccato il fondo, eh no, lui prende e scava ancora, è successo un fatto davvero clamoroso, quando mi è stato whatsappato non ci potevo credere, ho visto le immagini, ho detto no, davvero la combinata, avete intravisto qualcosa nella copertina, cosa succede nella gara vinta dal PSG contro il Nant 4 a 2, il PSG era in vantaggio di due gol e poi c'è stato l'ennesimo errore di Donnarumma, questo è clamoroso, il Blas, giocatore del Nant, ha segnato Donnarumma, ma come ha segnato? Ve l'ho messo in copertina, vi ripropongo in questo caso il frizz, il momento del tiro, Blas, guardate dov'è, è quello in basso a sinistra, vi ho messo anche la freccia, che da quella posizione riesce a superare Donnarumma, posizione defilata, tira di fatto quasi dalla linea, e la palla finisce poi insaccata, alle spalle di Donnarumma, ma evidentemente distratto, e si becca un gol sul suo palo, clamoroso, clamoroso, non infallibile anche sul raddoppio di Gano Go, ma in questo caso è un errore clamoroso, incredibile, che vedo, non ho mai visto da quella posizione sinceramente segnare, ed è un altro errore, è sempre, sempre, sempre peggio, sempre, sempre, sempre troppi errori, e io l'ho già detto, lo ribadisco, adesso ho avuto un problema fisico, ma in nazionale direi di provare a spalancare le porte, o meglio, la porta a Vicario, Donnarumma è un caso che è una parabola quasi da studiare, perché sta peggiorando con il passare del tempo, sta facendo troppi errori con il passare del tempo, prende troppi gol, troppi gol in cui è colpevole, fa delle papere, e questa è una rete che non devi prendere mai, e poi mai, credo che la maggior parte di quelli che vedono questo video, quella palla l'avrebbero presa, perché devi stare attento, lì evidentemente non sei lucido, non sei concentrato, ed è un limite clamoroso per un portiere, ripeto, avete visto un gol, ditemi quando avete visto un gol da quella posizione e con il portiere in porta, ricordo una volta Vieri con l'Atletico Madrid, ma la porta era vuota, da quella posizione sul tuo palo, con lo specchio che è così, ti entra la palla, male, male, malissimo, incredibile, ditemi che cosa ne pensate, e ne parliamo perché, e ogni volta ne combina una, iscrivetevi, lasciate un like, commentate qui sotto, ciao!